In un periodo nel quale le prove scritte nei concorsi pubblici si svolgono con quesiti a risposta chiusa interviene un'importante sentenza del Tarlazio che fa chiarezza sui limiti della discrezionalità tecnica nella pubblica amministrazione, nella formulazione dei quesiti e delle risposte ammissibili per l'attribuzione dei punteggi. La vicenda ha riguardato una professoressa Salentina che ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per il reclutamento di personale docente per discipline letterarie latino e greco. La professoressa pur avendo risposto a tutti i quesiti non si è vista riconoscere i punti necessari per accedere alla prova orale, ciò perché in uno specifico quesito riguardante un brano dell'opera di Proust il Ministero riteneva esatta solo una tra le quattro risposte indicate e invece la professoressa aveva indicato un'altra risposta ritenuta da lei ugualmente esatta. E' da qui il ricorso al Tar con l'avvocato Pietro Quinto che ha dimostrato attraverso l'esibizione di pareri resi da illustri studiosi dell'opera di Proust, tra quali il professor Luciano Canfora, come la risposta resa dalla ricorrente dovesse essere considerata esatta al pari di quella indicata dal Ministero. La questione di diritto, discussa dall'avvocato Quinto e condivisa dal giudice amministrativo nella sua sentenza, ha riguardato i limiti della potesta tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e quindi l'ammissibilità del sindacato del giudice amministrativo. L'avvocato Quinto ha sostenuto che la discrezionalità tecnica nella pubblica amministrazione in linea di principio non censurabile può essere sottoposta al vaglio del giudice amministrativo quando vengano superati due limiti fondamentali, il principio di ragionevolezza e l'attendibilità tecnico-scientifica. E in questi termini il Tar ha risolto la controversa questione riconoscendo che nel caso in esame non vi fosse un'unica risposta esatta, potendo invece essere ammessa anche la risposta fornita dalla candidata. Nel commentare la decisione l'avvocato Quinto ha evidenziato come i principi affermati dal Tarlazio potranno rappresentare un'autorevole guida per la pubblica amministrazione sia con riferimento alla formulazione dei quesiti sia nell'individuazione delle risposte attendibili che possono talvolta superare anche il limite delle cosiddette risposte chiuse.